I precari dell'ASPO di Caltanissetta che avevano visto ridursi il monte ore lavorativo tornano alle 36 ore la settimana con decorrenza dal 1 aprile per tutto il 2018 ad affermarlo il deputato forzista Michele Mancuso che sottolinea è una vicenda del nostro territorio che abbiamo seguito con quotidiana e proficua attenzione il nostro impegno coinvolge a 360 gradi la sanità del Nisseno sono in fase di attuazione una serie di provvedimenti che infatti miglioreranno la qualità dei nosocomi di Caltanissetta, San Cataldo, Gela, Mazzarino e Mussomeli